Se vuoi far perdere la testa ad un uomo deve agire su più livelli, deve agire innanzitutto a un livello logico-razionale. Sembra strano ma soprattutto sulle persone difficili bisogna a livello logico-razionale tranquillizzarlo. Cioè lui non deve pensare in nessun modo che tu cerchi di fregarlo, che tu cerchi di, diciamo, cirquirlo in qualche modo. Non devi dargli l'idea che vuoi sedurlo. Quindi devi dimostrarti, diciamo, interessata ma non tanto, il giusto, insomma. Ma non devi, diciamo, inseguirlo perché se tu lo insegui in modo palese, logico-razionale, la sua parte logica dice con questa è fatta, non devo fare nessun sforzo, inizio io a imporre vincoli. Quindi da un punto di vista logico devi tranquillizzarlo. Devi anche cercare da un punto di vista logico di ricalcare i suoi valori, le sue credenze, ciò che per lui è importante fondamentalmente. Non devi presentarti, per così dire, eccessivamente trasgressiva se lui va alla ricerca di una, di costruirsi una famiglia, ad esempio. Invece devi presentarti leggermente più trasgressiva in modo graduale se pensi che lui abbia esigenze di trasgressione. Da un punto di vista logico-razionale, intendo dire, quindi da un punto di vista evidente. Da un punto di vista emotivo, invece, devi essere molto trasgressiva. Devi iniziare a porgli dei vincoli, devi iniziare a dargli degli stimoli che possono essere l'amplificazione di tutte quelle che sono le sue, i suoi turbamenti. Cioè devi presentarti inizialmente come disponibile, cercare il contatto fisico, cercare, diciamo, di dare degli stimoli, anche molto forti da un certo punto di vista, sempre in modo il più casuale possibile. E poi devi creare una sorta di gelo, devi creare una sorta di distacco. gradualmente devi renderti molto meno disponibile, molto meno partecipe a quelle che sono le sue esigenze. In questo modo riuscirai, diciamo, a far sì che lui viva ciò che sono i suoi turbamenti. Cioè chi ha il turbamento dell'abbandono proietterà su questo l'abbandono, chi ha il turbamento del rifiuto proietterà su questo il rifiuto. Insomma gli darà un forte shock emotivo e questo ti permetterà rapidamente di acquisire il potenziale emotivo e lui cercherà di venirti dietro, cercherà di inseguirti in qualche modo. E a questo punto tu dovrai porre dei vincoli, dei vincoli che sono delle condizioni, in base all'obiettivo che vuoi raggiungere. Se vuoi un fidanzamento, se vuoi quello che è, tu dirai, no, beh, io insomma sto cercando un fidanzato, mi rendo conto che tu vuoi altro, non siamo fatti l'uno per l'altra. In modo tale che lo spingerai gradualmente a porsi complementare quelle che sono le sue esigenze. Sarà lui che desidererà di fidanzarsi con te. Da un punto di vista poi istintivo devi dare forti stimoli di natura sessuale, ma senza fargliela, diciamo, espletare immediatamente. Comunque l'esplettazione deve richiedere uno sforzo da parte sua. Questo per fargli perdere completamente la testa e far sì che si innamori veramente di te. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Seguimi anche sul blog www.soluzionevip.com Ciao!